Ciao, in questo video voglio mostrarti in che modo accedere alla tua area riservata e visualizzare un corso. Qui siamo sulla home page di Goform. Per accedere alla tua area riservata devi guardare qui in alto a destra. Troverai due voci, accedi oppure registrati. Se hai già acquistato un corso online vuol dire che sei già registrato, per cui devi cliccare su accedi. Cliccando su accedi ti comparirà questo pannello che ti darà modo di inserire le tue credenziali. Se non le hai a disposizione e puoi sempre recuperarle, cliccando qui su recupera le credenziali inserirai la tua mail e potrai ricevere in posta elettronica login e password. Una volta inserite le tue credenziali, clicca su accedi e dopo qualche secondo il sistema ti avrà riconosciuto. Come puoi vedere l'accesso è stato effettuato correttamente. Infatti in alto a destra non vediamo più accedi o registrati ma ciao con il tuo nome e cognome. Inoltre c'è una freccetta accanto. Devi cliccare proprio qui per accedere alla tua area riservata. In questo caso noi vogliamo verificare i nostri corsi online. Quindi clicchiamo direttamente sulla voce i miei corsi online. Dopo qualche secondo il sistema ci porterà all'interno di Vform nella nostra area riservata e qui abbiamo l'elenco di tutti i corsi online acquistati. Per visualizzare un corso sarà sufficiente cliccare sulla voce Vai al corso. Il sistema impiegherà qualche secondo per verificare l'effettiva iscrizione a questo corso online e ci riporterà all'interno delle lezioni.